Allora, oggi, dopo il rientro delle vacanze, apriamo un nuovo argomento e iniziamo a parlare di grafi. Così avremo una struttura dati in più, più completa, più articolata, su cui poter riuscire a rappresentare e modellare anche problemi più complessi. C'è questo microfono che è troppo alto, non riesco a abbassarlo. Ok, io so che l'argomento dei grafi l'avete già trattato, anche se da un punto di vista, diciamo così, meno implementativo rispetto a quanto faremo noi nel corso precedente di ricerca cooperativa, per cui io spendo solamente i primi 15 minuti o giù di lì a rinfrescarci la memoria su quelle che sono le definizioni principali legate ai grafi, tanto così perché magari ricordiamo la terminologia, ricordiamo un pochino di che cosa si parla e poi ci tuffiamo direttamente all'interno della libreria che useremo noi per poter, diciamo così, lavorare con questa struttura dati e con gli algoritmi ad essere collegati. Quindi di fatto, che cosa sia un grafo, già lo sappiamo dal punto di vista astratto, è un insieme di punti o nodi o vertici, li possiamo chiamare indifferentemente nodi o vertici, che sono dei punti all'interno appunto del grafo stesso, è un insieme di archi che collegano tra di loro questi vertici. Quindi un insieme di vertici e un insieme di archi e ciascun arco può collegare tra di loro vari vertici. Il grafo è una struttura dati estratta che poi si concretizza, si specializza, secondo poi del dominio applicativo, secondo di che cosa dobbiamo farne e rappresenta situazioni anche molto diverse. Quindi all'interno di ciascuna disciplina, alla fine il grafo diventa una struttura dati che può essere usata per rappresentare alcune delle specificità. Facciamo solo attenzione, visto che noi poi tenderemo a vedere tutte e tre le cose, a una distinzione nella terminologia. La parola graph in inglese può voler dire tre cose. Può voler dire il grafo in senso matematico, in italiano appunto lo chiamiamo grafo. Può rappresentare il grafico di una funzione, in questo caso tendenzialmente informaticamente parlando si parla più di plot, plotting a function, di disegnare il grafico di una funzione. E il chart potrebbe essere anche un grafico di quelli da Excel, business chart. In questo caso la parola più corretta in inglese sarebbe chart, in italiano parliamo di grafico. Qui grafico di una funzione e grafico, diciamo così, tipo histogramma, noi usiamo lo stesso termine anche se in italiano, anche se parliamo di cose completamente diverse. Ecco, tutte queste tre cose ovviamente sono cose molto distinte tra di loro. Ricordiamoci che qui parliamo di grafo e non di grafico. Ecco, non sbagliamo proprio sul punto di partenza. Vabbè, sull'inizio dello studio dei grafi come branca della matematica, forse sicuramente questo aneddoto lo avete già conosciuto, no? C'erano i nobili dell'epoca, qui parliamo del 1700, non sapevano come passare giornate, quindi si interrogavano su come poter passeggiare su tutti i ponti di questa città di Königsberg senza dover passare due volte dallo stesso ponte e non riuscivano a trovare una soluzione fino a quando arrivò il signore Ulero, che ritornerà diverse volte in argomenti grafici, sui grafi, che è un matematico che dimostrò per la prima volta, appunto inventando in quel momento le basi di quella che oggi chiamiamo la teoria dei grafi, dimostrando che non era possibile. Adesso questa dimostrazione per noi oggi è una banalità, parleremo di grafi euleriani, non euleriani, proprio per ricordarsi di questa origine, ma all'epoca chiaramente era un tipo di matematica completamente nuova. Dopodiché dobbiamo, purtroppo, quando cerchiamo di applicare un concetto astratto come quello di grafo a dei problemi concreti, ci troviamo di fronte a tutta una serie di variabili, varietà distinte, modi diversi o esigenze diverse delle presentazioni. E questo fa sì che la definizione di grafo non sia univoca, non sia unica, ma esistano in realtà molte sottospecie di grafi. Tra un attimo, quando parleremo della libreria, vedremo che la libreria ne supporta 16 tipologie diverse di grafi, che si distinguono sulla base di che cosa? Beh, si distinguono innanzitutto sulla base delle regole con cui gli archi possono collegare dei vertici. Allora, possiamo avere un grafo semplice, cosiddetto semplice, quando, data una coppia di vertici, può esistere un arco che li collega oppure può non esistere quell'arco che li collega e non abbiamo altre possibilità. E questi vertici devono essere distinti tra di loro. Quindi un grafo semplice è un grafo in cui, per ogni coppia di vertici, può esistere o meno un arco che li collega e i vertici collegati a un arco devono essere diversi tra di loro. Se noi rimuoviamo uno o l'altro o entrambi di questi vincoli, troviamo delle generalizzazioni del concetto di grafo, come ad esempio, rimuovendo il fatto che può esserci un solo arco tra una coppia di vertici, otteniamo il cosiddetto multigrafo, che è un grafo nel quale tra una determinata coppia di vertici può esistere più di un arco distinto. Per alcuni tipi di problemi può essere, non so, problemi di calcolo di percorsi, e allora dal punto A al punto B ci può arrivare ma in due modi diversi. Allora in quel caso hai bisogno di rappresentarli entrambi. Oppure possiamo rimuovere l'altro vincolo che i due vertici di partenza e di arrivo siano distinti. E allora otteniamo i cosiddetti pseudografi in cui sono ammessi dei loop, in italiano lo chiamerò un cappio, archi che partono e arrivano allo stesso nodo, allo stesso vertice. Questo nella definizione più semplice, la definizione appunto di grafo semplice, questo è escluso, non viene permesso, perché in molti casi non serve a niente, è inutile, diventa solamente una complicazione inutile da gestire e non serve per rappresentare informazione. Cioè un vertice, se io immagino un grafo come qualcosa che mi modella delle situazioni e dei passaggi, dei luoghi e dei spostamenti, dato un vertice io sono già su questo vertice, non devo attraversare un cerchio per tornare al punto di partenza. Però invece in alcuni casi invece è importante poter rappresentare anche queste informazioni. Ovviamente queste sono due cose indipendenti, noi potremmo avere molti grafi che non permettono cappi, grafi semplici che permettono cappi, oppure molti grafi che permettono anche cappi. Abbiamo almeno quattro possibilità diverse. E poi, per ciascuna delle possibilità precedenti, l'arco può essere concepito come un'entità ordinata o orientata, di solito come diciamo nella terminologia dei grafi, oppure un grafo non orientato. Purtroppo in italiano non c'è una parola per dire non orientato, diciamo non orientato. Quindi il grafo può essere composto da archi non orientati, significa che l'unica informazione che ho su un arco è quella la coppia dei due vertici che collega, ma non c'è una direzione attraverso cui attraversarlo, quest'arco. Questo vuole anche dire che se un arco collega il vertice A col vertice B, questa affermazione è indistinguibile rispetto all'affermazione che l'arco collega il vertice B col vertice A. Quindi è sempre simmetica in un certo senso questo tipo di relazione. Mentre invece, in un caso di un arco orientato, l'arco ha un punto di partenza e un punto d'arrivo, che corrispondono a due vertici distinti se il grafo è semplice. Quindi dire che c'è un arco che collega il vertice 3 al vertice 4, ad esempio, è diverso rispetto all'arco che colleghi il vertice 4 al vertice 3. Possono esserci entrambi e sono indipendenti, sono archi indipendenti. Quello che va in un verso e quello che va nel verso opposto possono esistere entrambi anche in un grafo semplice, perché non si tratta comunque di due volte lo stesso arco, ma di due archi diversi, perché l'arco in questo caso comprende anche la direzione. Quindi, ad esempio, in questo caso vediamo una doppia freccia per indicare che qui c'è un arco che va in un senso e anche l'arco che va nel senso opposto. Di solito cercheremo di disegnarlo con due frecce distinte per renderlo più chiaro. E quindi questa è una possibilità in più quindi di associare una direzione agli archi. Oppure possiamo avere la possibilità di associare dei pesi o delle etichette, se vogliamo essere più generici, parliamo genericamente di etichette, agli archi o ai vertici. molto spesso si fa sugli archi, cioè noi finora abbiamo parlato di un grafo come un'entità pura, cioè dei vertici o degli archi, punto. Ma il vertice in sé non ha informazione, solamente come fosse un punto nello spazio. L'arco in sé non ha informazione, se non quali sono i due vertici che collega, eventualmente l'orientamento. Ma quando vogliamo rappresentare dei problemi seri, in realtà il nostro vertice rappresenterà qualche oggetto reale. E allora avrà dell'informazione associata. E anche l'arco rappresenterà il fatto che da A a B si può andare con l'ascensore e quindi ho bisogno di informazioni che mi dicano qual è l'ascensore, quanto tempo ci mette, eccetera, eccetera. Quindi nei problemi pratici è usuale dover associare agli archi o ai vertici o a entrambi delle etichette, dei valori, degli attributi in più, delle informazioni aggiuntive. Alcuni rappresentano poi i colori, se uno vuole rappresentare delle etichette non numeriche. Ma l'idea è che si arricchisce l'informazione che ho nel vertice dell'informazione che ho nell'arco con dell'informazione aggiuntiva. Il caso più semplice è quello del grafo pesato, in cui l'informazione aggiuntiva è sotto forma di numero reale e lo si associa agli archi. Quindi un grafo pesato è un grafo in cui gli archi hanno siascuno un'etichetta composta da un numero reale. Tutti gli altri casi sono possibili, semplicemente non hanno dei nomi brevi come quello di grafo con gli archi pesati. Si parla di peso per rappresentare un numero che poi sia una funzione di costo, una funzione di valore, eccetera. Allora, se riassumiamo tutto questo ragionamento in termini formali, un grafo è rappresentato, è perfettamente caratterizzato da due insiemi, un insieme di vertici V e un insieme di archi E, dove un arco è un sotto insieme del prodotto cartesiano di vertice per vertice. Quindi è, matematicamente, una relazione sull'insieme dei vertici. Quindi un sotto insieme di tutte le possibili coppie di vertici. Definito così è la definizione di un grafo orientato. Perché possiamo inserire nell'insieme E di archi l'arco che va da 1 a 3, la coppia 1,3 e questa non implica automaticamente che ci sia anche la coppia 3,1 come sarebbe invece in un arco non orientato. Allora, in questo caso gli archi sono, per questa definizione, che è la più semplice, orientati e quindi in ogni arco si può riconoscere la sua sorgente, il suo punto di partenza e il suo punto d'arrivo. Il sin, che è la destinazione. Quindi, se noi disegniamo un grafo di questo genere, in cui, tanto per complicarci la vita, ho aggiunto anche un cappio, è un grafo orientato, come si vede, composto da sei vertici e un certo numero di archi, lo possiamo, secondo la definizione, rappresentare così. V è l'insieme dei vertici che ho identificato con le loro etichette, ho etichettato i vertici con dei numeri diversi. Ovviamente sto parlando di un insieme, quindi gli elementi dell'insieme in qualche modo devono essere distinguibili, devo poter distinguere l'uno dall'altro, con un numero, con un'etichetta, con una stringa. E poi gli archi. Quindi, E è un insieme di coppie. 1,2 è l'arco che va da 1 a 2, 2,2 è il cappio che va da 2 a 2, 2,5 è l'arco che va da 2 a 5, e così via. Qualunque sotto insieme io scelga per costruire questo insieme E, mi dà un grafo diverso sugli stessi vertici. Ok. Niente, dicevamo, le varie definizioni, riprendiamo solamente i termini, il grafo non orientato, è un grafo in cui queste coppie di vertici, 1,2,2,2, vengono interpretate come coppie non ordinate. Cosa vuol dire interpretate come coppie non ordinate? Vuol dire che comunque ho un insieme. Questo insieme non contiene delle coppie 1,2 tra parentesi tonda, ma contiene degli insiemi di due elementi. L'insieme 1,2, vedete che qua c'erano le graffe, mentre prima c'erano le tonde. L'insieme 1,2 è un elemento che non è diverso dall'insieme 2,1, insiemisticamente parlando, contengono gli stessi elementi, dentro un insieme non conta l'ordine. Quindi se io concepisco l'insieme degli archi come un insieme di coppie non ordinate, ossia insieme di dimensione 2, automaticamente quando dico che ho l'arco 2,5 oppure dico che ho l'arco 5,2 che in realtà è lo stesso arco, ho detto tutto, non c'è, non è possibile distinguere neanche per come lo scrivo, diciamo così, l'orientamento dell'arco stesso. E quindi dipende poi ovviamente dal problema che cerchiamo di modellare, quale delle due rappresentazioni sia più utile. Vedremo questa differenza tra parentesi graffa e parentesi tonda anche nella libreria. In questo caso si cercano anche di usare dei termini che non tradiscano il nostro, diciamo così, vizio di pensare in modo orientato. Quando vi dico l'arco da 1 a 2, o l'arco che collega 1 e 2, in qualche modo l'1 lo dico prima del 2. E quindi sembra quasi che stia suggerendo un ordine preferito. Allora si cercano anche di usare dei termini in cui dice l'arco è adiacente a questi vertici o incidente sui vertici, non dico va da a, non dico collega questo a quello, ma è, diciamo così, fa da ponte tra, in modo da mettere i due vertici a pari livello. Quindi c'è una relazione che viene chiamata di adiacenza, in cui un arco è adiacente a un vertice o un vertice è adiacente a un arco, anzi in realtà un arco è adiacente di solito a due vertici, se non stiamo parlando di cappi, e quindi spesso si usa anche questa terminologia, adiacenza o incidenza, no? Semplicemente per ricordarcelo. Ok. Che cosa possiamo misurare su un grafo? Parliamo di cose semplici, non ancora di algoritmi complessi. Allora, innanzitutto, ogni vertice può avere un numero di archi incidenti diverso. Allora, in un grafo non orientato, io l'unica cosa che posso distinguere è quanti archi incidenti su quel vertice ho. Questo viene detto il grado del vertice. Quando dico un grado di un vertice, è il numero di archi che arrivano su quel vertice, arrivano o partono, incidono su quel vertice. Nel caso di un grafo orientato, le cose si complicano un pochino, perché io posso avere degli archi che arrivano e degli archi che partono, che escono. Allora, in questo caso, avremo due concetti di grado diverso, il grado in uscita e il grado in ingresso dell'arco, del vertice, scusate, che è il numero di archi uscenti, appunto, il numero di archi entranti in un grafo orientato. E quando parliamo di grafo, di grado, genericamente, non specificandolo, è, intendiamo, la somma dei due. Che può essere anche un po', a volte creare delle sorprese, perché se ho un arco che va nelle due direzioni, in realtà quello lo sto contando due volte. Vabbè, questi sono solo esempi molto semplici di calcolo del grado. Un'altra cosa che, quindi, i vertici non sono isolati perché sono collegati ad altri vertici. Quindi, di ogni vertice posso conoscere quelli che sono i vertici adesso adiacenti, ossia quelli raggiungibili attraversando gli archi adiacenti al vertice di partenza. Quindi, dato a un vertice, posso trovare i vertici vicini. Se ho degli archi, sicuramente dall'altra parte di quell'arco avrò degli altri vertici. Ecco, se io ripeto questa operazione più volte, quindi, da un vertice mi sposto attraverso un arco adiacente verso un altro vertice che a questo punto chiamo anch'esso adiacente. E poi, da questo vertice però spostarmi ancora e così via, sto costruendo una sequenza di vertici che hanno la proprietà che per ogni coppia di elementi di questa sequenza esiste un arco che li collega. Questo lo chiamiamo un cammino, un cammino su un grafo. Un cammino su un grafo è una sequenza di vertici in cui, informalmente parlando, tocco più vertici, e passo da uno all'altro attraversando un arco. Quindi devo passare solamente, usare solamente gli archi per potermi spostare da un grafo all'altro. Il cammino è un cammino semplice se non passa mai due volte allo stesso vertice essenzialmente, se non viene mai usato due volte al stesso vertice o in alcune definizioni se non viene usato due volte allo stesso arco. E quindi, il fatto di poter creare dei cammini su un grafo mi permette di definire un concetto di raggiungibilità. Cioè, un nodo o un vertice è raggiungibile da un altro se esiste almeno un cammino che porta dal secondo nodo verso il primo. Nel caso di un grafo non orientato la raggiungibilità è una proprietà simmetrica, anche lei, nel caso di un grafo orientato è possibile che da A si possa raggiungere B ma da B non si possa tornare indietro e raggiungere A. Dipende ovviamente da come è fatto. E questi sono i concetti di base che sono le informazioni di base che ci permettono di caratterizzare un grafo. Ecco, parlando di cammini abbiamo detto un cammino semplice è un cammino in cui non riuso mai lo stesso tratto ma senza riusare lo stesso tratto io potrei avere il punto di arrivo uguale al punto di partenza. punto di arrivo uguale al punto di partenza significa che un cammino è chiuso e viene chiamato in questo caso un ciclo. Allora può darsi che esistano grafi che ammettano dei cicli oppure grafi che non ammettano dei cicli quindi la proprietà di un grafo è quella di ammettere oppure meno la possibilità di partire da un vertice e arrivare a quel vertice di partenza scegliendo opportunamente il vertice ovviamente. Quindi ad esempio questo grafo è un grafo ciclico ammette almeno un ciclo che è il ciclo 1, 2, 5 e 1 che è il cammino 1, 2, 5 e 1 a cosa ci servono? Ci sono il concetto di ciclicità e quello di connettività sono molto collegati in un modo anche curioso dunque noi abbiamo definito cosa vuol dire da un vertice poter raggiungere un altro vertice in questo caso addirittura questa componente 1, 2, 5 essendo siamo composti da un ciclo la posso navigare diciamo così in qualunque direzione possibile ma se parto in 2 non sarà sicuramente possibile arrivare a 6 in questo caso dico che questo grafo non è connesso vuol dire che non è possibile che non è vero che ogni vertice sia raggiungibile da ogni altro vertice un grafo un qualunque grafo non connesso come vediamo questo in realtà è composto sempre da più componenti connesse cioè se il grafo nel suo complesso non è connesso cioè esistono due vertici per i quali non riesco a trovare un cammino io posso sempre decomporre il grafo in sottografi più piccoli ciascuno dei quali sia connesso e queste sottografi prendono il nome appunto di componenti connesse del grafo stesso cioè pensiamo che ne so alla rete stradale se i vertici sono le città e gli archi sono le strade le isole dove non ci sia un ponte sono rappresentano delle componenti anche molto articolate fatte di città le strade ma non sono connesse al continente quindi un qualunque grafo può essere composto da più componenti in questo caso questo grafo è composto da tre componenti connesse indipendenti tra di loro non entro nel dettaglio della connettività forte che è quella che si applica nei grafi orientati perché lì diventa più complicato perché tu a seconda del verso con cui stai andando puoi raggiungere oppure non raggiungere un elemento ma è un caso che si trova abbastanza raramente volevo ancora arrivare a dare un'altra definizione prima di entrare esatto allora sempre giocando su questi concetti di connettività do una definizione un po' strana di albero che forse noi abbiamo una definizione molto intuitiva di un albero però matematicamente più semplice un albero è un grafo connesso a ciclico vabbè non orientato mette insieme la ciclicità e la connettività del grafo quindi un albero è l'unico diciamo così è uno spartiacque tra i grafi connessi e i grafi ciclici facciamo questo esercizio questi sono esempi di tutti gli alberi possibili che posso disegnare fino a sei vertici prendetele uno qualunque di questi in mente vostra e provate ad aggiungere un arco senza aggiungere un ciclo non è possibile non è possibile aggiungere un arco che non crei un ciclo quindi un albero è un grafo al quale che ha il numero massimo di archi che può avere pur non essendo ciclico se aggiungessi anche solo un arco saltano fuori dei cicli necessariamente e mentalmente proviamo a fare l'operazione inversa proviamo a togliere un arco e ditemi se siete capaci a togliere un arco senza rendere l'albero disconnesso senza spezzare rendere non più connesso il grafo anche questo è impossibile quindi un albero è un grafo che ha il numero minimo di archi per renderlo connesso se avesse anche solo un arco in meno non sarebbe possibile renderlo connesso e questa è una proprietà carina perché da un lato è connesso e quindi da ogni vertice posso arrivare a qualunque altro vertice dall'altro non è ciclico e quindi significa che tra dati due vertici di sicuro c'è un cammino perché è connesso e di sicuro quel cammino è unico non ho alternative non è che posso passare di qui oppure di là o un percorso unico quindi l'insieme degli alberi qui ho disegnato un altro albero vedete questo è un grafo connesso a ciclico mi basta guardare queste due cose è connesso sì ha dei cicli no allora lo chiamo albero noi siamo abituati l'albero a pensarlo come strutture dati che hanno una radice e poi una serie di livelli l'abbiamo usato più volte in realtà visto come grafo non ha bisogno di avere un orientamento particolare un nodo privilegiato che sia la radice basta che abbia queste due proprietà anzi qualunque nodo dell'albero può diventare a sua volta una radice qui ho fatto i due esempi se io rimuovo anche solo un arco qui ero in veno ne ho tolto i due ottengo non più un albero beh tecnicamente lo chiamano foresta anche se è un termine che fa un po' ridere che è di fatto un insieme di alberi di sconnessi tra di loro un grafo non più connesso se io invece aggiungessi almeno un arco creerei un grafo che ovviamente era connesso aggiungo un arco rimane connesso ma nasce un ciclo non posso aggiungere archi che non aggiungano cicli quindi se io rimango sull'albero ci sarà un nodo possiamo scegliere arbitrariamente un nodo speciale a piacere e lo chiamiamo radice allora io ho preso l'albero di prima e ho evidenziato uno dei vertici a caso eh lo potrei fare con un altro poi lo facciamo con un altro vedete che sono due vertici scelti a caso allora nel momento in cui scelgo una radice automaticamente sto inducendo un orientamento naturale nell'albero nei vertici dell'albero e negli archi anche dell'albero quindi questo è un grafo non orientato eh non abbiamo bisogno che il grafo sia orientato però se io parto dalla radice penso a come posso raggiungere tutti gli altri vertici partendo dalla radice e troverò un cammino solo e quindi questo cammino induce in qualche modo una direzione di espansione una direzione di attraversamento del albero partendo dal nodo radice e quindi distingueremo poi la terminologia si sprecano perché a volte c'è una terminologia botanica in cui si parla della radice e si parla dei nodi foglie che sarebbero quelli più lontani di tutti dalla radice altre volte invece c'è una terminologia genealogica in cui si parla di nodi padre e nodo figlio si usano un po' delle metafore padre figlio per dire i nodi figli sono quelli che discendono cioè vengono dopo e i nodi padri sono quelli che invece trovo ascendendo tornando su verso la radice si parla di rami si parla di foglie quindi questo sarebbe un rame questo sarebbe un ramo insieme di archi questo sarebbe un nodo foglia e questo sarebbe un nodo radice se vogliamo usare metafora botanica sono tutti termini che si usano per rappresentare diciamo così le varie parti di un albero e le varie operazioni che si possono fare su un albero però come dicevo questo nodo non ha nulla di speciale l'ho scelto io se avessi scelto quest'altro nodo semplicemente alcuni archi si sarebbero dovuti orientare in qualche modo in un modo diverso quindi questo che prima era un arco che io concepivo andare verso il basso se la radice è questa lo concepisco verso l'alto immaginate di prendere questo nodo qui sollevarlo che questa cosa qua si è fatta di fil di ferro lo sollevate i nodi cadono verso il basso si riarrangiano in un modo diverso quindi la possibilità di poter scegliere la radice può essere comoda a volte e vale solamente ovviamente se la struttura dati è un albero ne parlo perché più avanti avremo bisogno di un grafo complesso di riuscire a isolare o identificare un sottografo che sia un albero perché quando tu hai un grafo e hai miliardi di cammini possibili tu devi identificare un insieme di archi che rappresenti un albero all'interno di quel grafo perché quell'albero ti codifica i cammini migliori ad esempio in modo non ambiguo la cosa bella del grafo dell'albero è che una volta che ho scelto una radice io ho uno e un solo cammino che mi permette di raggiungere qualunque altro nodo sui grafi pesati nella loro forma più semplice noi attribuiamo un valore numerico che di solito è un numero reale di solito positivo se va bene non nullo a un arco poi chiaramente bisogna ogni volta specificare quali sono i valori ammessi i grafi con archi a 20 peso negativo di solito creano problemi però in teoria non c'è nulla che ce lo vieta e quindi in questo caso non è semplicemente un'etichetta ma può essere associata a un concetto di peso o costo nel usare un determinato arco solitamente i grafi pesati sono grafi orientati ma non necessariamente dipende quindi queste sono cose che in buona parte già conoscevate abbiamo solo rinfrescato un pochino la terminologia e invece quello che ci interessa è chiederci nei nostri programmi come facciamo usare appunto queste strutture dati a grafo un po' come quando abbiamo iniziato il corso abbiamo detto ma noi le strutture dati già ci sono nell'Iberia Java che erano tutte le collection in realtà non le abbiamo ancora conosciute tutte ci mancano ancora le code e usiamo quelle senza preoccuparci troppo di come sono implementate la stessa cosa possiamo fare con i grafi oggi impariamo a rappresentare i grafi costruirli eccetera poi nei prossimi giorni chiaramente faremo degli esercizi su dei dati che a loro volta siano strutturati in modo da richiedere una rappresentazione a grafo allora in questo corso abbiamo scelto questa libreria che si chiama JGraphT che trovate in questo sito jgraphT.org attenzione a questa T finale perché c'è un'altra libreria che si chiama JGraph senza la T finale che in realtà non c'entra niente perché serve per disegnare quelli che noi chiamavamo charts prima degli histogrammi dei grafici di questo genere invece questa libreria di JGraphT non ha nulla di grafico di visuale è puramente matematico quindi c'è questo sito che se non sbaglio ho aperto prima che contiene la libreria e a noi interessa sicuramente la parte di download e anche la parte di documentazione che sono pubblicate su questo sito allora vediamo un po' come lavorare guardiamo insieme solamente l'installazione se vado a una pagina di download il suggerimento che ci dà per usare questa libreria è dire usa Maven che è un sistema di compilazione che è in grado di andarsi a scaricare le librerie da solo visto che noi in questo corso non ci siamo mai addentrati all'interno di Maven andiamo invece sul modo tradizionale quindi nella parte download possiamo scaricarci un file zip come sempre che poi viene scaricato bla bla io come per sempre non rischiare in aula me lo sono già scaricato è un file come questo jgraph.t 130.zip fate attenzione perché se andate a vedere anche su github gli esercizi degli anni precedenti i temi di esame eccetera ovviamente negli anni precedenti usiamo delle versioni diverse di jgraph.t e nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una riorganizzazione abbastanza diciamo così forte di alcune delle classi principali per cui alcuni esercizi magari risolti qualche anno fa oggi non girano più nello stesso modo perché adesso poi quando entriamo nel dettaglio vi indico quali sono i punti di differenza perché appunto la libreria ha cambiato alcune convenzioni essenzialmente d'uso alcuni nomi di classi nomi di interfaccia eccetera quindi non stupiamoci se poi per caso c'è il codice che non gira esattamente così va leggermente adattato quindi noi parliamo della versione che c'è oggi la 1.3 la 1.3 come sempre è uno zippone che contiene tanta roba tra cui tutta la documentazione il java doc i sorgenti trovate anche su github ma qui c'è anche una copia completa di tutti i sorgenti e poi quello che interessa a noi è una cartella lib che contiene i jar già compilati della libreria in realtà contiene vari jar di cui uno è quello fondamentale quello che ci interessa è questo qua jgraph.t core quindi a noi nei nostri progetti servirà solamente questo file jgraph.t core tutti gli altri servono per delle estensioni della libreria jgraph.t se volete ad esempio leggere o salvare su file dei grafi in un certo formato c'è la libreria jgraph.t trattino io input output che vi può servire e così via in realtà c'è un file di tutti questi jar c'è uno molto più grande degli altri il bundle che contiene tutto quindi se uno proprio volesse sicuro ci mette dentro questo contiene già tutte le altre librerie ma per il tipo di esercizi di problemi di esercizi che faremo noi c'è sufficiente questo quindi io mi ero estratto fuori dallo zip questo jar e lo useremo all'interno dei nostri progetti quindi se noi creiamo un progetto ah se l'ho già aperto se vogliamo creare un nuovo progetto per ora facciamo solamente un progettino jar di esempio esempio grafi ok possiamo aggiungere a questo progetto così come facciamo con le altre librerie una cartella nella quale copiare questo file e aggiungerlo al percorso di ricerca del progetto quindi questo è la libreria jgraph t core che contiene tutta una serie di package adesso diremo qualche cosa sul contenuto e sull'organizzazione di questa libreria e ovviamente delle classi e delle interfacce al loro interno allora chiediamoci un nuovo piccolo main e dentro il quale porteremo avanti qualche esempio allora hit polito tdp aspetta qua sopra name esempio ok e fammi un main ok allora cosa contiene questa questa libreria quindi siamo qua abbiamo aggiunto jgraph t core al nostro progetto cosa ci troviamo ci troviamo tutta una serie di package di cui org.jgraph t apriamo la pagina del javadoc così ce la vediamo direttamente in tempo reale è il package principale che contiene l'inter diciamo così l'interface la classe principale di tutto il package che si chiama graph questa è la struttura dati madre un po' come nelle collection c'è la collection da cui derivava tutto il resto qui c'è il graph da cui deriva tutto il resto e quindi i metodi definiti in questa interfaccia è un'interfaccia perché abbiamo detto che i tipi di grafo sono molti quindi sono implementati attraverso classi diverse però su tutti questi tipi di grafi le operazioni che posso fare sono quelle definite all'interno di questa interfaccia poi ci sono ho evidenziato un altro package che è jgraph.graph che contiene le classi di implementazione dei grafi lui dice implementazione di varie tipologie di grafi varie classi di grafi c'è il grafo orientato con il non orientato c'è il multigrafo c'è il grafo pesato eccetera eccetera sono implementati da classi diverse e queste classi si trovano all'interno di questo package questi sono le due se vogliamo package principali può servire magari per fare dei programmini di test le classi del package generate che permette di generare dei grafi automaticamente quindi generami un grafo completo cioè che contenga tutti gli archi generami un grafo col 20% di densità generami un grafo che contenga dei cicli o cose di questo genere ci sono delle procedurine che generano casualmente ovviamente dei grafi che potremmo usare magari per fare dei test nei nostri programmi per non doverci ricreare a mano e poi c'è un altro package che anche qua ho evidenziato punto alg che in realtà è un contenitore di altri package alg sta per algoritmi e quindi dentro questo alg ci sono tanti sottopackage che ho riassunto in questa slide in realtà ne ho canciati due o tre che erano ancora meno rilevanti degli altri che contengono già le implementazioni di moltissimi degli algoritmi che potremmo voler utilizzare sui grafi ad esempio se abbiamo bisogno di cercare dei cammini di lunghezza minima o di costo minimo ci sono già ad esempio ci sono gli algoritmi di connettività ci sono gli algoritmi sui cicli gli algoritmi sul short spot sui cammini più brevi eccetera eccetera quindi quando andremo avanti magari proveremo a accennare alcuni problemi diciamo gli algoritmi che sui grafi già li conoscete qua dentro trovate già l'implementazione quindi raramente dovremo implementarci un algoritmo di quelli diciamo così da libro di testo di algoritmi sui grafi devo dire che non tutte queste aree sono ugualmente coperte nel senso che se andate a vedere all'interno di alcuni ci sono veramente gli algoritmi fondamentali già implementati su altri invece c'è magari una classe un algoritmo solo che vi dicono anche che la cui complessità la cui efficienza magari non è non è massima c'è proprio dichiarato a volte nella documentazione perché è una prima implementazione che ha fatto qualcuno quindi non abbiamo diciamo così la qualità e la competenza di tutti questi tipi di algoritmi non è uniforme tra i vari package però come sempre è un punto di partenza se dobbiamo implementare qualche cosa andiamo a vedere se per caso non sia già fatto oltre a questi algoritmi in realtà c'è un altro package che non capisco perché non sia sotto alg ma l'hanno messo fuori che si chiama traverse che sono i meccanismi di attraversamento dei grafi forse l'hanno messo fuori perché è di fatto la funzionalità di base di cui parleremo meglio domani quindi c'è questo grosso portafoglio di classi e metodi a nostra disposizione come si usano? allora tutti i grafi devono essere istanze di una sottoclasse di graph 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 è un'interfaccia non è una classe ma ormai siamo abituati a lavorare con l'interfaccia come list e poi creare le classi concrete come il list così come nelle collection un grafo è parametrizzato quindi possiamo avere una collection di string oppure una collection di oggetti che abbiamo definito noi anche qua abbiamo un grafo che ha due generici il tipo di vertice e il tipo di arco cioè chi ha implementato la libreria JGraphT dice beh ok vuoi fare un grafo io non ti obbligo a dare a identificare i vertici con dei numeri interi 1, 2, 3, 4, 5 o ABCDE scegli tu qual è il tipo di oggetto che vuoi memorizzare nel grafo cioè se il tuo grafo è un grafo che usi per rappresentare i collegamenti tra le varie città allora come vertice usa l'oggetto città se è un grafo che vuoi usare per rappresentare i corsi universitari come vertice usa l'oggetto corso ce l'hai già non devi crearti per forza un numero e poi dopo avere la difficoltà di mappare il numero identificativo del vertice con qual è il corso corrispondente quindi ci hanno permesso di poter dire beh in questo grafo i vertici sono oggetti di un certo tipo poi ovviamente come V posso usare integer se voglio usare il numero posso usare string se voglio usare delle stringhe ma posso usare qualunque oggetto purché sia un oggetto identificabile purché io devo poter capire se due vertici sono uguali o diversi sto parlando dello stesso vertice o di due vertici diversi quindi l'oggetto che io uso per creare un grafo per creare il vertice di un grafo deve essere un oggetto in cui ho definito bene hash code equals lo possiamo anche capire perché dentro internamente lui usa dei set degli insiemi per apparentare i vertici e quindi per poter mettere un oggetto in un insieme deve avere hash code equals definiti bene ma noi ormai siamo abituati che gli oggetti hanno bisogno di un minimo di manutenzione per poter essere utilizzati questo è il tipo del vertice il tipo dell'arco il tipo dell'arco molto spesso ci interessa meno che interessa meno perché le informazioni più importanti spesso poi si può fare ciò che si vuole spesso sono all'interno dei vertici allora la libreria ci mette già a disposizione due classi di arco per non dovessi ne creare un'altra diciamo inutilmente da noi che si chiamano default edge e default weighted edge cioè un arco di default se non pesato oppure un arco di default pesato ecco l'unica cosa che spesso serve è la possibilità di rappresentare un peso sull'arco quindi noi come classe per rappresentare il vertice è la nostra scelta classe per rappresentare l'arco se è un grafo non orientato useremo default edge se è un grafo orientato useremo default weight edge se non ci piacciono perché abbiamo bisogno di rappresentare informazioni aggiuntive dentro gli archi facciamo una sottoclasse di uno di questi due e tranquillamente lavoriamo gli algoritmi sono totalmente parametrizzati rispetto a questi due generici quindi l'unici requisiti appunto come dicevo che implementino escode equals perché internamente usano set e mappe a manetta e quindi altrimenti non funzionerebbe nulla e basta allora dicevamo che cosa ci posso fare su un grafo quali sono le operazioni che posso fare su un grafo adesso qua non si leggono perché sono tutte appiccicate ma sono quelle che sono definite all'interno dell'interfaccia graph la documentazione della libreria è fatta abbastanza bene quindi vi invito anche proprio a leggerla allora quali sono i metodi questi metodi qui sono i metodi immaginiamo di avere un grafo definito che cosa ci posso fare quali sono i metodi di base che mi fondisce la libreria quindi metodi per trovare elementi per spostarmi per aggiungere per cancellare poi ci sono gli algoritmi che mi permettono di ottimizzare trovare sotto insieme eccetera eccetera quelli sono a parte parliamo proprio dei metodi di gestione come se una lista i metodi di gestione sono aggiungi cancella e contenza dimmi se esiste un elemento e dammi l'elemento nella posizione I sono i metodi di base con cui poi si costruiscono gli algoritmi allora qui sono questi questi metodi valgono su qualunque grafo non sono tantissimi quindi abbiamo ovviamente abbiamo degli archi e dei vertici quindi abbiamo un advertex per aggiungere un nuovo vertice e un add edge per aggiungere un nuovo arco lasciate perdere le varianti advertex dato un grafo aggiungi un nuovo vertice che ti passo come parametro e se io ho due vertici un vertice di partenza e un vertice di arrivo posso creare un nuovo arco che collega con i due vertici poi qui c'è la variante in cui l'oggetto E me lo sono già creato per quanto mio ma di solito non è così oppure la variante in cui il grafo è in grado di generarsi da solo i vertici con un algoritmo che li specifico a parte ma non è il caso normale non è il caso normale sono queste due e una volta che li ho aggiunti posso interrogarli nel senso che io posso chiedere al grafo dimmi quali sono gli archi che contieni edge set che è un set di oggetti arco oppure andiamo in ordine alfabetico in fondo vertex set dimmi quali sono i vertici di cui si è composto che è un set di vertici quindi se ho un grafo e voglio iterare su tutti i vertici stampami tutti i vertici l'uno dopo l'altro basta iterare sul grafo punto vertex set che è l'insieme dei vertici stessi oppure posso avere posso chiedere dato un arco dunque edge set qua edge off qua dato un vertice dimmi qual è l'insieme degli archi incidenti su quel vertice entranti e uscenti quindi ho vari metodi per poter interrogare il contenuto del grafo parlavamo di di grado degree of per quanto riguarda i grafi non orientati ma poi c'è anche se non ricordo male l'incoming l'in degree e l'out degree di un vertice quindi il numero di archi entranti separato dal numero di archi uscenti ma quindi le definizioni che abbiamo visto prima nella carrellata di ripasso di fatto ce le troviamo quasi uno a uno mappate sui metodi della classe lasciamo perdere i metodi remove che useremo molto raramente se non dire mai e poi per i grafi pesati abbiamo la possibilità di impostare il peso di un determinato arco quindi dato un arco che è già stato aggiunto al grafo io posso impostare qual è il suo valore double vedete che è un numero reale come peso quindi purtroppo per creare un arco pesato devo prima creare l'arco e poi segnalargli il peso anche questo metodo aggiunge un peso a un arco che però già deve esistere poi vedremo un altro metodo per farlo più facilmente quindi queste sono le operazioni di base essenzialmente sto guardando se c'è qualche cos'altro dato i due vertici dammi qual è l'oggetto arco che li collega e dato e dato un aspetta no poi l'oggetto è scusate non ho visto l'oggetto è è il default lo vediamo dopo c'è solo le slide quindi queste sono le operazioni di base molto semplici abbiamo questa doppia collection doppio set set di vertici set di archi che in qualche modo sono collegati tra di loro questi sono tutti i metodi che possiamo usare dicevo su tutti i tipi di grafo quali sono i tipi di grafo? allora grafo è un'interfaccia che definisce i metodi di lavoro e però ha tutta una serie di classi di implementazione sulla documentazione trovate questa tabella che vi dà sulla prima colonna i nomi diversi di classi mi sono accorto che questa classe qui la prima è ripetuta qua quindi in realtà se contate le righe sono 17 in realtà sono solo 16 le classi perché c'è una ripetuta due volte e vi do una chiave di lettura allora io ho riportato questi nomi 16 classi in questa tabella 4x4 quindi queste sono tutte le principali classi implementative di grafi allora io immagino di avere un problema da rappresentare allora sulla base delle caratteristiche del problema io so se il mio grafo deve essere pesato o no se deve essere orientato o no se deve ammettere dei cappi dei loop oppure no eccetera eccetera allora io mi faccio queste tre domande deve essere un grafo orientato o non orientato allora tutte le classi di destra rappresentano grafi orientati tutte le classi di sinistra rappresentano grafi non orientati quindi rispondendo alla mia domanda il grafo deve essere orientato o no scelgo già in quale parte della tabella guardare se nella parte destra o nella parte sinistra poi la seconda domanda che mi faccio è il grafo lo voglio pesato o no alla cui ho indicato al centro i grafi pesati e nelle due colonne esterne i grafi non pesati quindi avendo queste due informazioni orientato o no pesato o no mi restringo a una colonna perché ovviamente se prima avevo deciso che il grafo doveva essere orientato avevo già solamente la parte destra della tabella sapendo che deve essere pesato mi sarà rimasta solamente la terza colonna e quindi la classe che mi interessa che mi serve sarà una di queste quale? e vado a vedere mi interrogo su quale flessibilità voglio avere sugli archi un grafo semplice prima riga semplice vuol dire che gli archi devono essere orientati o non orientati uguale ma possono esistere tra ogni coppia di versi distinto un solo arco oppure semplice ma ammetto i loop i cappi i self loop quindi può esistere un solo arco ma è permesso avere un arco tra un vertice e se stesso allora vado sulla seconda riga oppure un multigrafo multigrafo è un grafo in cui tra ogni coppia di vertici distinti posso avere più archi tanti archi quanto mi servono oppure posso avere un pseudografo che è un multigrafo che ammette anche i cappi quindi tutte le possibilità quindi la seconda di questa risposta a queste tre domande è orientato è pesato cosa voglio fare con gli archi ed identifico facilmente una categoria una classe che voglio usare poi non mi nascondo che la prima riga la fa da padrona che sono i grafi semplici quasi sempre abbiamo a fare con grafi semplici non orientato orientato pesato non orientato e pesato orientato purtroppo per motivi diciamo così storici c'è un pochino di asimmetria nel senso che soprattutto sulla parte sinistra la parola undirected a volte c'è a volte no vedete qua c'è undirected e qui invece non c'è mentre veste sulla parte destra directed c'è praticamente sempre quindi è un pochino più facile da decodificare questa libreria chiama default il grafo semplice con i cappi che per loro è il grafo tipo normale però questa parola default in realtà non vuol dire nulla di particolare cioè perché non è che sia default rispetto a niente l'han chiamata così la classe nelle primissime versioni della libreria e così è rimasta quindi non ci serve questo è semplicemente un simple underrated graph con cappi solo che anziché dire con cappi perché non volevano non sapevano come dirlo hanno lasciato default davanti quindi se uno legge il nome della classe a volte crea un pochino di confusione però questa leggenda colorata mi sembra che non lasci più spazio a dubbi allora come facciamo a creare un grafo? usando i metodi di libreria chiaramente allora prendiamo magari dal slide dei grafi che abbiamo visto prima un qualche esempio non partiamo da uno pesato subito partiamo da uno semplice c'erano degli altri no erano tutti i numerini ne volevo uno con le lettere ma le ho le ho fatte tutti con i numerini questi costruiamo questo prima di costruire questo grafo ok? allora questo è un grafo come? semplice almeno questo qui è semplice poi noi non sappiamo se il grafo che dobbiamo costruire in realtà sarebbe un multigrafo quindi dovremmo avere archi multipli ma in questo caso qui non ne abbiamo nessuno quindi dovremmo dovremmo conoscere il tipo di problema ma per ora spediamoci di questo esempio un grafo semplice non orientato non pesato quindi come lo costruiamo? andiamo nel nostro main e dichiariamo una variabile di tipo graph che giustamente se abbiamo aggiunto la libreria dovemmo trovarcelo specificando i tipi quindi per ora nel nostro esempio questo grafo ha come vertici dei numeri interi allora usiamo l'oggetto integer per rappresentare il vertice l'arco non è orientato e quindi come tipo di arco usiamo semplicemente default edge scusate l'arco non è pesato e qui il grafo non è pesato possiamo usare default edge come tipo di arco e chiamiamo il nostro oggetto g uguale uguale new devo creare a questo punto una nuova classe tra quelle disponibili allora abbiamo visto che questo grafo torno torno alla tabella non orientato quindi siamo sulla parte sinistra non pesato prima colonna semplice prima riga simple grafo quindi mi serve un simple grafo dove ovviamente qua i tipi posso non specificare ulteriormente perché li ho appena specificati qua il costruttore dei grafi di tutti i grafi richiede un parametro strano richiede una classe un oggetto di tipo classe che corrisponda alla classe dell'arco prima lo faccio poi lo spiego devo scrivere default edge punto class perché? ma innanzitutto cosa vuol dire? default edge è il nome di una classe chiaramente l'attributo class è un attributo statico di qualunque oggetto definito da oggetto ereditato giù che restituisce un oggetto di tipo class c'è un oggetto che si chiama class con la c maiuscola che descrive come è fatta una classe questa fa parte di una parte di java che si chiama reflection cioè avere oggetti e classe che permettono di parlare di oggetti classi e metodi quindi all'interno del programma posso ragionare sui oggetti del programma stesso è un livello di complicazione in più se io conosco qui non sto facendo una new non sto distanziando un arco sto prendendo di fatto il riferimento che descrive qual è l'oggetto che rappresenta quell'arco io non posso passargli semplicemente il nome della classe voi non saperebbe cosa farsene dal nome a un oggetto che descrive un oggetto class che descrive il mio edge perché gli serve? ma gli serve per poter creare il grafo perché noi abbiamo visto che quando voglio creare un grafo posso aggiungere i vertici e quando aggiungo un vertice l'oggetto v glielo passo io e quindi il grafo la libreria del grafo prende l'oggetto che gli do e lo usa come vertice lo mette nel set dei vertici ma quando aggiungo un arco gli do tipicamente il vertice di partenza e il vertice di arrivo e lui costruisce un arco addirittura per gentilezza me lo restituisce mi dice guarda l'oggetto che ho creato è questo però questo vuol dire che lui il metodo ad edge deve lui creare l'arco fare la new di un oggetto di tipo arco e come fa lui a sapere qual è il tipo di quell'oggetto non può saperlo un metodo generico non può interrogare ma sono generico su che cose non è esplicito oltre al fatto che ci sarebbero delle complicazioni sull'ereditarietà e allora lui mi chiede la gentilezza di dire senti ma qual è la classe degli oggetti che devo creare tutte le volte che tu hai bisogno di creare un arco questa quindi gli do il parametro con cui la sua factor interna di archi è in grado di creare gli archi e questo è il prezzo da pagare per poter scegliere io quale oggetto usare come arco è solamente nella fase new nella fase creazione dell'oggetto per il resto non ci dà fastidio semplicemente per come funziona internamente l'ereditarietà non è in grado e i generics non è in grado di prendersi da solo che l'arco che voglio usare è questo ma devo dirgli io qual è il tipo di arco che voglio usare che per noi sarà sempre la stessa cosa sempre uguale ok a questo punto ho creato un grafo vuoto poi al grafo possiamo aggiungere dei vertici ad vertex e vedete che adesso ad vertex si aspetta un parametro di tipo intero perché è intero perché l'ho dichiarato qui quindi per lui adesso il vertice non è altro che un numero intero se avessimo aggiunto anziché integer corso esame città eccetera si sarebbe aspettato un oggetto di quel tipo quindi abbiamo nel nostro esempio dall'1 al 6 e vabbè 1 molto pigramente vado di copia e incolla 3 4 5 6 e questo è già un grafo volendo posso già stamparlo mi stamperà un metodo to string che impareremo ad apprezzare che mi stampa già il grafo in una forma molto semplice se io lo eseguo lo stampa così che va diciamo così di pari passo alla definizione matematica un grafo è un insieme una coppia di due insiemi un insieme di vertici un insieme di archi quindi ho parentesi tonne il grafo è fatto di due pezzi primo pezzo i vertici che sono i numeri 1,6 secondo pezzo gli archi adesso non c'è nessuno è vuoto non ho ancora aggiunto nessun arco però i vertici ci sono a questo punto posso provare ad aggiungere gli archi usando l'add edge che richiede semplicemente una coppia di vertici di partenza e di arrivo quindi in questo caso un arco tra 1,2 1,5 2,5 quindi g.add edge 1,2 g.add edge 1,5 g.add edge 2,5 poi cosa abbiamo nella figura ancora 3,6 add edge riceve come primo e secondo parametro degli oggetti di tipo vertice quindi in questo caso degli integer che possono essere gli stessi oggetti che ho inserito qui o degli altri oggetti che siano equals a quelli precedenti ciò che fa i vertici sono dentro un set quindi ciò che fa l'add edge è va a cercare innanzitutto cercare nel vertex set qual è il vertice che corrisponde al parametro che gli ho passato può essere lo stesso oggetto oppure può essere un altro oggetto che sia uguale a questo che secondo le scode equals sia uguale questo teniamolo a mente perché poi quando costruiremo dei grafi del genere del database magari abbiamo un momento in cui creiamo degli oggetti per i vertici un altro momento in cui dobbiamo creare gli archi in quel momento i vertici li dobbiamo ricreare o dobbiamo creare un oggetto che sia uguale ce ne occuperemo meglio domani internamente lavoro con degli insiemi quindi ciò che gli passo qua qui suppone che i vertici siano già stati creati quindi il vertice 1 e il vertice 5 deve già esserci e quindi a questo punto semplicemente abbiamo nella stampa ci fa vedere l'elenco dei vertici virgola l'elenco degli archi e l'arco è rappresentato con l'annotazione in sé mistica ricordiamoci questo è un grafo non orientato e quindi 1,2 e 2,1 devono essere indifferenti lui me lo ricorda mettendomi delle parentesi graffe questo qua è un grafo con 6 archi e 4 scusatemi 6 vertici e 4 archi molto semplici se volessimo costruire anche l'altro grafo che c'era qui in figura che invece è un grafo orientato con degli archi diversi si può fare facilmente ad esempio dobbiamo creare un altro grafo ovviamente sempre integer sempre default edge però non usiamo i grafi pesati G chiamiamolo G2 new questo non sarà più un simple graph ma un simple directed graph orientato non pesato semplice simple del retrograph default edge punto class e anche qua possiamo aggiungere a G2 tutti gli archi ne approfitto per fare la conoscenza con un'altra classe se io ritorno nell'algoritmo perché adesso ciò che dovrei fare è aggiungere gli stessi vertici all'altro grafo e più poiché sono pigro esiste e non sono l'unico pigro al mondo esiste una classe che si chiama nel package org.jgraph.t quello principale noi abbiamo usato l'interfaccia graph c'è anche c'è anche un'altra classe questa è una classe non è un'interfaccia che si chiama graphs con la s che è una collection of utilities cioè se sei pigro e ti accorgi che stai facendo la stessa cosa più volte probabilmente qua dentro c'è già qualcuno che ha messo un metodo per farlo ad esempio c'è un metodo questa classe non dimentico di dire graphs contiene solo metodi statici sono tutti metodi statici quindi li chiamo semplicemente con graphs punto il nome del metodo non devo crearmi nessun grafo non sono metodi del grafo ad esempio io voglio creare un grafo nuovo e aggiungere mettere in quel grafo nuovo tutti i vertici di un grafo già esistente lo posso fare con un'istruzione sola quindi anziché fare un ciclo for lo faccio fare a voi così come questo altro metodo che non abbiamo usato prima se siamo pigri può essere utile add edge with vertices cosa fa? aggiunge un arco tra due vertici no scusate non è questo che lo sotto questo sì ma è diverso quello di cui pensavo è questo aggiunge un grafo g un arco tra due vertici e se per caso quei vertici non erano già stati definiti li aggiunge quindi ti evita di dover prima aggiungere i vertici poi aggiungere gli archi fai che aggiungi gli archi e man mano che lui si trova un vertice che non ha ancora visto lo aggiunge al grafo proprio per massima pigrizia ed eventualmente anche il peso add edge with vertices quindi qua ci sono una serie andiamo le andremo a pescare qua e là una serie di metodi di comodità essenzialmente nulla che non si possa fare con i metodi direttamente di graph però ci semplificano un pochino la vita a volte quindi poiché il cielo è un pigro graff 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 verso da qui punto add all vertices in cui gli passo un grafo e una collection il primo argomento è un grafo gli passo G il grafo vecchio no scusate G2 il grafo a cui voglio il primo parametro di questi metodi di graphs è sempre il grafo su cui voglio lavorare essendo metodi statici devo passarlo come parametro e poi il secondo parametro in questo caso è la collection quali vertici vuoi aggiungere? beh tutti quelli di G G punto vertex set da G estraggo il set di vertici e lo uso per creare è raro dovevo lavorare con due grafi però l'ho usato come pretesto per conoscere la classe graphs a questo punto devo semplicemente più aggiungere gli archi e qui non c'è automatismo non lo devo fare a mano uno due 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 ah no no attenzione non va bene perché io ho un cappio qua quindi non devo scegliere un simple directed graph ma un default directed graph altrimenti quando cerco di aggiungere quell'arco non mi lascia non lo aggiunge quindi devo correggere non è simple ma default poi non cambia nulla quindi aggiungiamo G2 punto add edge abbiamo detto uno due 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 poi due cinque due quattro quindi due 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 quattro due cinque ce l'ho poi partiamo da quattro quattro uno quattro cinque poi abbiamo cinque quattro e sei tre sei tre vediamo un po' allora questa seconda riga mi dà la rappresentazione di un grafo orientato che sia orientato me ne accorgo dal fatto che gli archi sono presentati come coppie quindi coppie ordinate e non come insiemi che per la natura sono disordinati i vertici sono gli stessi ovviamente e gli archi sono quelli che ho aggiunto senza particolari sorprese allora ricordiamoci solo che questi sono dei set ok quindi se l'ordine con cui compaiono questi elementi è diverso dall'ordine in cui li abbiamo inseriti non dobbiamo stupirci ok non c'è nulla di male perché sono degli insiemi quindi può darsi che è la funzione di hash li rimescoli internamente in questo caso mi sembra che siano rimasti uguali ma a priori non è detto il grafo non ti promette di mantenere l'ordine dei vertici secondo l'ordine in cui inserisci non è una lista ma insieme e questo è il passo principale creare un grafo a questo punto una volta che l'ho creato posso farci delle operazioni sopra di esplorazione e l'operazione più semplice che faremo è partire da un vertice e cercare di trovare quali sono i vertici adiacenti raggiungibili eccetera però per farlo ovviamente non possiamo passare le giornate a creare i grafi a mano un arco alla volta di fatto per noi la creazione del grafo sarà leggere dei dati da un database e creare gli archi corrispondenti i vertici e gli archi corrispondenti ai dati contenuti nel database che ci interessano quindi domani ci occupiamo di questa parte cioè come popolare dei grafi direttamente da un database e questo che ovviamente dipenderà molto dal tipo di problema e poi cominciare a navigare cioè visitare l'interno del grafo usando questa libreria oggi mi fermo qua il tempo è finito e ci vediamo domani grazie a tutti